Cari amiche e amici, oggi vi voglio far vedere quanto è semplice rimuovere piccoli dermatofibromi, fibromi penduli, tutte queste cose qui, mediante il laser frazionato, che è una invenzione moderna veramente stratosferica. Io uso il super pulsato, quindi con dei tempi veramente bassissimi, per cui posso fare certe rimozioni totalmente senza anestesia, senza niente e con dei risultati estetici veramente molto buoni. Vedete per esempio queste piccole stupidate, queste piccole in inglese skin tags, questi piccoli dermatofibromi che possono essere rimossi in un secondo, senza totalmente anestesia. In questo caso non utilizzo il manipolo a scanner ma utilizzo il manipolo singolo e brucio un pochino. Facciamo un light debridement, togliamo quelle, vedete che già finito, un leggero ritocchino, finito, senza totalmente anestesia. Nella stessa seduta vedete questa piccola neoformazione, attenzione che arrivo. ecco qua, già eliminato in un attimo. Quindi per questi piccoli dermatofibromi, che i piccoli fibromi penduli, specialmente gli occhi, le ascelle, soprattutto nelle persone un po' sovrappeso, bene, non dovete tenerli perché sono cose che si possono togliere veramente in un attimo, senza il minimo rischio e con un effetto estetico veramente ottimo. La guarigione con un laser frazionato di buona qualità sarà veramente perfetta. Vi ringrazio e a presto. Grazie.